Celebrata in forma ridotta anche a Taranto la ricorrenza del 25 aprile, in Piazza della Vittoria è stata deposta una corona di alloro sul monumento ai caduti. Sulle note dell'inno di Mameli hanno presenziato il sindaco Melucci, il comandante della polizia locale Matichecchia, il presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Giuseppe Stea. Ha osservato un minuto di raccoglimento mentre il vicino castello aragonese oggi appariva addobbato con il tricolore per celebrare la festa della liberazione. Un 25 aprile di riflessione, ha detto il primo cittadino, quando l'emergenza finirà molte cose saranno interpretate con uno spirito diverso. Dopo questo 25 aprile, dopo questa emergenza, credo niente più sarà come prima e se non recuperiamo oggi, qui e adesso, questo nostro senso di comunità e il senso dei valori di una giornata come questa, veramente abbiamo perso una grande occasione. Quindi è una giornata che sentiamo in maniera più autentica di altre volte. Se possibile, insomma, siamo contenti comunque, nonostante le ristrettezze, di poterla festeggiare. Con lo stesso spirito con cui i partigiani sconfissero il nemico, dovremo continuare la nostra battaglia contro il coronavirus, ha detto il presidente dell'Ampi di Taran, Tostea. Il popolo italiano in quell'occasione, se per raggiungere una unità straordinaria, penso che sia stato il punto più alto di unità del popolo italiano dall'unità d'Italia in poi. Forze diverse dal punto di vista politico, culturale, religioso, se però mettersi insieme per sconfiggere il comune nemico che allora era il nazismo e il fascismo. Io penso che oggi ci sarebbe bisogno di questo, cioè di una grande unità del popolo italiano. Ciascuno dovrebbe mettere da parte le proprie posizioni e lavorare in maniera unitaria contro un nemico comune che in questo momento è il coronavirus.